Nella notte un nuovo sbarco si è verificato a Roccella e il cinquantesimo avvenuto da inizio anno per un totale di circa 4.500 persone. Sono approdati in 86 questa volta, tra i migranti persone provenienti dal Pakistan e Kurdistan, tra loro donne, bambini e minori non accompagnati. L'operazione di soccorso in mare è stata condotta dalla Guardia Costiera di Roccella Ionica. Si trovavano a bordo di una imbarcazione a vela di circa 10 metri e secondo loro stesse testimonianze sarebbero partiti dalle coste della Turchia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Per il momento i migranti sono stati temporaneamente sistemati nella tenso struttura dello scalo portuale della Locride, gestita da Croce Rossa e Protezione Civile.